L'occhio della macchina da presa Dopo la premiazione le coppie girano a ritmo di cia 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 sulla pista del salone del casino Tognazzi non gioca alla dama di picche preferisce la dama di cuori E la dama di cuori è felice, non ha avuto la grolla ma ha in compenso il gallo più applaudito del teatro italiano